Allora, credo che Rumor sia una buona presentazione per il mondo musicale che sto andando a creare con tutti i pezzi che rilascerò. E questo secondo me lo fa nel modo in cui unisce il moderno con il vintage, e lo fa in un modo in cui secondo me mi appartiene molto. Il moderno per quanto riguarda l'utilizzo di autotune, effetti moderni, programmi come Ableton e melodie più ritmate, mentre invece il vintage è più per quanto riguarda la cattura dei veri e propri suoni. Siamo andati in studi di registrazione vintage, abbiamo registrato tutti gli strumenti suonati da musicisti da inizio alla fine della canzone, quindi senza l'utilizzo di loop. Sostanzialmente unendo questi due approcci abbiamo creato il mondo in cui cade Rumor. Rumor è nata nello studio del mio collaboratore Davide Malvi, dove siamo partiti da una sua idea e poi siamo andati a svilupparla, entrambi seduti su degli strumenti, lui era seduto alla batteria e io alla chitarra e alla voce, per portarla nel mondo moderno vintage di cui parlavo prima. E successivamente, una volta che avevamo lo scheletro della canzone, l'abbiamo portata ai produttori Fat Bustards, che l'hanno praticamente consolidata e reso un prodotto pronto per la radio. Dal punto di vista musicale c'è un termine che sto utilizzando per andare a descrivere le canzoni che andrò a rilasciare e anche le sue influenze, che è Urban Rock e nasce dall'unione semplicemente di due generi. Uno che sono le mie radici rock, quindi sia nell'approccio di come vengono suonati gli strumenti, l'energia dietro appunto a ogni plettrata, unita a tutto quello che ha a che fare con la musica black e urban, trap, hip hop, R&B, quindi appunto cercare di trovare un mondo che unisca entrambi questi generi. Nel corso della mia vita ho avuto la fortuna di vivere in tanti posti diversi, come per esempio Shanghai, Milano e Los Angeles. A Shanghai ho vissuto quattro anni, da 14 a 18 anni, i primi anni sono stati molto molto duri e passavo le giornate praticamente chiuso in casa, e lì il mio amore per la musica è davvero esploso, in quanto ho capito che era proprio quello che volevo fare. Però fino a quel momento non avevo espanso il mio sapere musicale, oltre che la musica rock. Questa modernizzazione è arrivata dai 18 anni in poi, quando mi sono trasferito a Los Angeles, e mi sono tuffato in collaborazioni con artisti urban, più moderni, quindi ho aperto la mia mente a tante altre musica. Quello che mi ha convinto a fare il salto da artista autore è stata la ricerca di stimoli nuovi, perché quando una persona lavora come autore, il suo lavoro creativo finisce nello studio una volta che la canzone è completata, mentre tutta quella parte di magari pensare a un videoclip, pensare a un concetto, vestiti, immagini, colori, sono tutte strade che un autore sostanzialmente non viene interpellato. Quindi anche con tutto il tempo nuovo a me disponibile durante il lockdown, ho pensato di intraprendere queste strade nuove. Nel campo autorale ho anche lavorato per il progetto di Amici di Maria Di Filippi, è un'opportunità che è nata mentre ero a Los Angeles, tramite un produttore italiano chiamato Chico Palmosi, a cui era rientrato il lavoro. E' stato molto interessante lavorare a questo programma, perché c'è una struttura molto grande che va dietro agli artisti che fanno parte di quel programma, e quindi lavorare su specifiche, certe richieste di ENR, vari che facevano appunto parte del programma, è una roba che mi ha fatto crescere molto, soprattutto quando in una giornata c'è una botta e risposta di questo va bene, questo non va bene, cambia questo per questo motivo, e quindi passare quei giorni di feedback così intensivo ha portato a una forte crescita artistica. Anche se adesso ho iniziato un percorso artistico, ho sicuramente intenzione di continuare come autore e produttore. Questo perché lavorando per altri hai la possibilità di spaziare su molti più generi musicali. Io una cosa che amo molto fare è non solamente rimanere nell'urban rock, che magari è quello che sto seguendo col mio progetto, ma invece anche provare musica elettronica, musica prettamente trap, e lavorando per artisti diversi è possibile immergersi in questi mondi musicali nuovi. Negli ultimi giorni è uscito il videoclip di Rumors che ho montato io, e originalmente doveva essere una roba completamente diversa, ma nel corso del filmato della prima parte del video è successo che è entrata una tempesta e sono naufragato su un'isola per due giorni, fino a che non sono stato salvato da un pescatore. E quindi ho montato appunto queste scene e sono riuscito a creare il video musicale, che ironicamente credo che descriva anche la situazione che tutti abbiamo vissuto durante il lockdown, dove eravamo impotenti di poter vedere altre persone e incapaci di cambiare la nostra situazione. Dopo questo singolo di debutto, che è Rumors, ho già diverse canzoni che sono in cantiere. Già, per esempio, il 15 di giugno sarò in Polonia a finalizzarne quattro che verranno rilassate nei prossimi mesi. E poi una cosa che tengo a fare è che ogni canzone che seguirà Rumors, in questo caso e poi quelle future, vadano a raccontare una storia coerente e anche sorprendente allo stesso tempo, quasi che racconti una vita ingrandita di Zoro Vivaldi.